Ciao a tutti, vorrei in pratica approfondire un po' il discorso delle tecniche di seduzione in quanto appunto diventano tecniche nel momento, è importante precisare questa cosa a mio avviso perché una tecnica diventa tecnica di seduzione nel momento in cui io, non fa parte del mio comportamento in pratica, tutto quello che viene messo in pratica in modo spontaneo e inconsapevole non è una tecnica quindi ci sono persone che spontaneamente magari hanno un atteggiamento di questo genere come dicevo appunto nel video precedente e mettono magari in atto il tire molla però in modo inconsapevole ce ne sono tantissime persone che magari lo fanno, le donne sono ovviamente più brave in questa tecnica ma anche, diciamo da questo punto di vista potrei dire anche la mia, nel senso che secondo me la donna è più brava per il semplice fatto che non lo fa in modo consapevole e soprattutto tante volte lo fa proprio perché è insicura non lo fa lei stessa, nel senso che mette in atto un avvicinamento, un allontanamento perché c'è una sua insicurezza c'è un suo dubbio se magari davvero è interessata o meno questa persona, se davvero questa persona magari potrebbe potrebbe in qualche modo fare il caso suo, quindi le donne mettono in atto questa tecnica quasi sempre in modo inconsapevole diversamente invece da parte degli uomini che o sono dei seduttori, quindi agiscono con le tecniche oppure sono dei manipolatori ecco, questa, volevo appunto puntualizzare questa cosa proprio perché viene definita tecnica di seduzione tutto quello che una persona non farebbe e quindi mette in atto un comportamento contrario a quello che in genere farebbe. Con questo video è tutto, un bacio dalla PING